Buongiorno capitano! Oggi ho un cliente molto speciale, mi deve dare il miglior pescato. Che spettacolo! Mi fai mangiare benissimo? Sì, ti faccio strada. Risotto ai rifiuti di mare, aria di mare sporco. L'inquinamento del mare non è uno scherzo, partecipa a Blue Crowd Funding. Aiutaci a pulire il mare. Il mare uno è. Potete mandarci del denaro, se volete, per pulire il mare.